Installazione della fibra ottica e aumento della funzionalità della wifi anche per i passeggeri delle crociere. Un acquedotto che porta acqua potabile alle navi, alle aree dei terminal e nelle zone di servizio sicurezza e antincendio, collegamento con navette tra Porto Corsini e la città di Ravenna, rafforzamento dell'ufficio informazioni e progettazione dell'area esterna del nuovo terminal. Questo quanto realizzato al terminal crociere di Porto Corsini è previsto nel progetto Euro Padriatic Seaway, finanziato dal programma europeo ipadriatico 2007-2013. Il progetto Easyway globalmente è un progetto che interessa tutta l'area adriatica e che è di 7 milioni di euro. Ravenna ha avuto un budget di circa 350 mila euro che abbiamo utilizzato per grandissima parte nel terminal crociere di Ravenna. L'opera più importante e anche più significativa riguarda sicuramente il cablaggio con banda ultralarga di tutta l'area di via Baiona fino al terminal crociere e alla capitaneria di Porto a Porto Corsini. È un intervento nel quale Easyway ha investito 150 mila euro attraverso la provincia di Ravenna ma al quale hanno concorso anche la società lepida della regione Emilia Romagna per oltre 100 mila euro e 25 mila euro ciascuno il comune di Ravenna, l'autorità portuale e la Camera di Commercio.